E' transitato in provincia di Pavia, torno a mezzogiorno di lunedì, il colmo della piena del fiume Po al ponte della Becca, alla confluenza con il Ticino, il livello ha raggiunto i 3,60 metri sullo zero idrometrico, pochi centimetri oltre la prima soglia di attenzione, gialla, fissata per convenzione a 3,5 metri. Sabato scorso il livello massimo aveva raggiunto i 3,85 metri sullo zero. Visto l'apporto di fiumi come Trebbia, Nure e Tidone a Valle di Pavia, nel Piacentino la protezione civile ha fatto sapere che si attende a un innalzamento del fiume in soglia 2, Arancio. Nel Pavese continua intanto il monitoraggio di tutti i principali corsi d'acqua, come il Ticino. Secondo l'ultima nota del centro operativo della comune di Pavia, la situazione non ha destato particolare preoccupazione, ma a scopo precauzionale, nella notte fra domenica e lunedì, una patuglia della protezione civile è stata allertata per controllo e monitoraggio. Il preallarme è rientrato definitivamente nella mattinata, quando la crescita del Ticino si è stabilizzata, poco prima di raggiungere la strada del Borgo Basso. Il sole tornato a splendere sulla provincia dovrebbe accompagnare buona parte della settimana, consentendo quindi la normalizzazione di tutte le situazioni critiche. Secondo le ultime rilevazioni, il 2024 si candida ad essere uno degli anni più piovosi dell'ultimo secolo al nord-ovest, dove in diverse città, di pianura come Milano, si sono superati 1.500 mm di pioggia al 24 ottobre, oltre il 50% in più rispetto alla norma, con una probabilità elevata di battere molti record.